Dopo le dimissioni della Paparo in questi giorni già si fanno nomi di possibili successori, si parla dell'ex assessore Palma, di Lucarelli, qual è la strada? La strada è che provvederemo subito, adesso vediamo, se fa il bando dobbiamo fare delle valutazioni perché il bando non può durare sette giorni, il bando è pronto, dobbiamo vedere quanto farlo durare perché in pieno agosto se dai pochi giorni ci potrebbe non essere una partecipazione molto forte, magari c'è gente che non sta in zona, nello stesso tempo c'è un'esigenza immediata, quindi potremmo adottare una soluzione temporanea per poi fare un bando con una scadenza leggermente più lunga per consentire una partecipazione ampia e poi forse rivedere anche qualcosina in ABC, per esempio la gratuità completa dei compensi di un presidente che si assume responsabilità enormi, devo dire che riduce molto la partecipazione delle persone. Ci sono delle scelte che faremo nei prossimi giorni ma ABC non rimarrà senza guida, quindi l'idea mia è che entro venerdì ci sarà la guida comunque provvisoria, chiaramente poi vediamo quanto sarà provvisorio ma di ABC ci sarà la mia nomina entro venerdì.